Dunque la notizia secca è che c'è stato ieri un scippo successo a Sottomarina in via Roma nelle vicinanze più o meno dove c'è il kebab, l'incrocio con anche il bar Ardesia una persona, un ragazzo con un motorino tipo C ha scippato una donna e poi è scappato in direzione del semaforo e poi ha girato verso Piazza Todaro sembra che abbia incrociato qualcuno anche e poi ha fatto perdere le sue tracce non siamo certi ma credevamo che la donna scippata si sia rivolta ai carabinieri e questo segna anche in passato era capitato qualche volta qualche scippo però erano state cose che poi hanno immediatamente trovato che era la persona questo è un'escalation diciamo che un po' ci preoccupa perché sapete che nei giorni scorsi ci sono stati alcuni furti con scasso in alcune attività tra cui il mille bolle blu di via strada Madonna Marina ma anche l'associazione sportiva Tennis Club quella che c'è dietro via Mediterraneo che è stata visitata più volte facendo un sacco di danni noi l'abbiamo espresso abbiamo anche il sospetto che i responsabili dei furti avvenuti sia nell'attività del mille bolle blu la lavanderia che c'è appunto in strada Madonna Marina sia al Tennis Club siano da individuare sempre in alcuni personaggi che in passato siano già distinti con questo tipo di azione lo scippo francamente ci lascia un po' così perché sapete che lo scippo oltre ad essere penalmente molto più grave può portare anche delle conseguenze anche importanti perché la persona può cadere e si può fermare eccetera questo è quello che sappiamo a oggi e niente ve lo proponiamo e se avremo ulteriori aggiornamenti sarà nostra cura informarvi grazie a tutti